In Italia oggi ci sono circa 50.000 persone occupate nel mondo delle start-up e circa 10.000 start-up attive, che per carità è un bel numero, se mi ricordo vent'anni fa eravamo, capito, in quattro gatti, ti conoscevi tra tutti, invece oggi ti capita spesso di andare in giro e vedere della gente che fa le robe pazzescamente interessanti e non sai che cazzo è uscito fuori. Siete d'accordo che serva una bella spallata, una volta da tutte, che ci faccia decollare per giocare in serie A e non in serie C, D, F, G, di questo mondo così importante, tech digital business, che oggi comanda. E allora nell'ultimo periodo, un po' tormentato da questa domanda, insieme a un po' di amici che hanno lo stesso tormento, lo stesso fuoco sacro di chi si è rotto i coglioni di lamentarsi e vuole fare qualcosa di pratico, di concreto, ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo partorito un progetto. Anzitutto abbiamo detto, basta fare i lupi solitari, mettiamoci insieme, è più facile. E abbiamo messo sullo zero a zero una bella cordatina insieme, perché ci sono alcuni dei fondatori di start-up Italia, i fondatori di Dada, che poi adesso fanno la nana bianca, e una lista infinita di mentor, advisor, investitori, che ne sanno a pacchi, molto più di me, di business, di digitali, tutte queste robe qua, c'è dentro, avete tanta gente che non posso diventare tutti, manca solo la mamma di Goldrake. Scusate, c'è anche la mamma di Goldrake? C'è anche la mamma di Goldrake. E in tutto sto gruppone di fenomeni ci sono anch'io, ci sono io. Vabbè, ci sono anch'io. Che cosa andremo a fare? Ve lo dico. Numero uno, andiamo a fare un grande evento. Una roba tipo il Web Summit. Ce l'avete presente il Web Summit? Ma perché dobbiamo continuare a fare tanti piccoli eventini? Ce n'è 3.000 in Italia, tutti sparsi. Ma mettiamoci insieme, facciamo un mega eventone. Qualcosa di internazionale, qualcosa che parli con il mondo, qualcosa che all'estero non possano ignorare, dicano, oh, ma qua in Italia sono dei figli pazzeschi. Punto. Numero due, creiamo un distretto. Un posto fisico che unisce fondatori, investitori, studenti, aziende, tutti quanti. Tutto l'ecosistema si deve parlare, si deve vedere, si deve toccare. E per farlo funzionare un posto così deve essere aperto. Aperto di mentalità e aperto a connettersi con tutti i co-working che ci sono, gli acceleratori, tutti gli amici che fanno iniziative in tutta Italia. Uniamoci, parliamoci. Perché quello è l'unico modo per creare un circolo virtuoso. Tanto siamo tutti sulla stessa barca. Il posto fisico in questione lo prendiamo a Milano e non prendiamo un garage. Prenderemo oltre 10.000 quadri così suddivisi. 3.000 metri quadri circa di co-working, 8.000 metri quadri che passa per gli eventi e un migliaio di metri quadri per una academy. Un'academy. Ma scusate, si parla sempre del lavoro, che non c'è il lavoro, la crisi del lavoro, l'automazione che toglierà il lavoro e poi questi benedetti lavori del futuro, nessuno che li insegna. Oppure, se le vuoi imparare, devi andare da qualche parte e spendere un fantastiliardo in bocca al lupo. Quello che faremo con quest'academy, che sarà sia fisica sia online, una piattaforma che tutti potranno usare in modo diverso in base al fatto che sei persona o azienda, sarà portare gente in gamba. Portiamo i più bravi a insegnare tutti questi temi, spesso complessi, poi ne parliamo. E poi un ultimo aspetto, che però è il più importante di tutti. Al posto di fare un'azienda chiusa, capito, con i soliti soci per fare il nostro business dietro le nostre quattro mura, abbiamo detto, apriamo la st'azienda. L'apriamo anche là fuori a chi vuole rischiare con noi. Vuoi magari investire due lire e giocare sta partita con noi? Lo puoi fare. La filosofia di questo progetto è una filosofia aperta, open. Su questo progetto, oltre a poter collaborare in mille modi, perché uno può diventare partner, immaginate di quante iniziative che faremo, però può anche diventare socio, cioè investe due dirette, quelle che c'è in tasca, quelle che sapendo che è un rischio, perché è tutto un rischio, si sente dimettere e diventa socio. Giochiamo insieme, rischiamo insieme e magari rischiamo di fare una cosa bella, rischiamo, capito, di scrivere una paginetta della storia italiana. Alla fine di questa vicenda, magari una pagina intera, uno non riesce a scriverla, però cinque righe, forse sì. Ecco tutto qui, in pratica come si fa? Usiamo Mamma Crowd per raccogliere partecipazione di chiunque voglia investirci, che ricordo è rischioso, sì, tutto è rischioso, ma com'è che dice il proverbio? Una nave, ferma in un porto, è certo che è al sicuro, ma non è per stare ferma che è stata costruita.